Lei è convinto che tre persone potrebbero aver portato qui in questo boschetto Lilli e potrebbero averla abbandonata qui? Sì, ma non è stata proprio abbandonata, lei doveva essere ritrovata obiettivamente, non meno di due, ma io dico la terza poteva essere, visto che è stato fatto sicurissimamente di notte, col buio. Perché doveva essere ritrovata Lilli? Per problemi economici, ormai lo hanno detto tanti, lo dico anch'io, lei se scompariva, lo ha detto il marito al cognato pochi giorni dopo, se Lilli scompare che fra dieci anni appena finisce il periodo di morte apparente, eccetera, io come faccio a vivere? Domandatelo a lui, perché è stata messa qua così, io sono convinto che lui lo sa. Da un punto di vista delle bugie che voi accusate, Sebastiano ha detto... Se le dette fate, io non le accuso di niente, io ho detto già e lo dirò in eterno, non è stato voluto verificare quello che lui diceva, sono dichiarazioni che sono state prese per buone, punto e basta. La bugia più clamorosa detta da Sebastiano a so dire? La bugia più clamorosa in assoluto è quella che non abbiamo mai litigato, che c'era pace tra di loro, mentre lui lo sapeva benissimo, perché lo sapevo io, perché me lo diceva, c'erano litigi continui, ma non puoi andare a metterlo sul giornale. E hanno litigato la sera stessa, la mattina, adesso è venuto fuori dopo due anni che ha passato la notte piangendo. Lui ha attribuito questo pianto all'allosso porosi, così ci ha detto. Sì, sì, aveva il callo sinistro che gli faceva male.